Raduce dal pareggio a reti inviolate sul campo del Sant'Angelo, la Ianesi torna a giocare a Dayana, alla Bellucci, dove arriverà il Forlì. Terza forza del campionato con ormai persi e speranze di promozione diretta, ma sicuramente un ospite non facile da affrontare. Arriviamo cariche perché comunque veniamo da una prestazione importante dove mi sono lasciato un po' da mare in bocca perché volevamo e potevamo portare a casa tre punti. Sì, arriva una squadra forte, molto forte, però noi ci stiamo allenando, stiamo preparando bene la partita e ci faremo trovare pronti. I neroverdi si trovano otto punti dalla zona play-out e cercheranno di conquistarne altri per una tranquilla salvezza quando mancano cinque giornate alla fine della stagione. Una squadra che ha dimostrato di aver ritrovato forza e consapevole che può giocarsela anche con le prime della classe. No, siamo contenti perché comunque il nostro primo obiettivo era i 45 punti, ora abbiamo un altro obiettivo, noi partita per partita le ultime cinque che rimangono vogliamo ovviamente portare a casa una stampalia più alta e vedere un po' che succederà.